La mia condizione, amici miei, è abbastanza particolare, una condizione che a volte mi domando, ma è normale la cosa? Ho capito, accetto un po' la mia condizione perché, che posso fare? Certe volte provo ad essere un po' più. Eh, su tanti anni, tutta la vita ormai così, le aspettative da giovane. Se ricordo, perché adesso ho quasi 54 anni, ma se ricordo che c'erano tante aspettative. Studia, che vuol dire studiare? E qui tanti non te lo fanno capire, facile a dire studiare. Vai in classe, automaticamente, automaticamente tutto sul sistema, non è così semplice la cosa. Avevo dei grossi problemi. Non vado nei particolari, però le cose non sono andate come ci si aspettava, ma guardo un po'. La facevano tanto semplice la cosa. Eh, non era così la cosa. Mi dispiace mio padre, mia madre, che sono rimasti un po' scioccati. E vabbè. Però ho insistito, ho continuato a studiare, si chiamano studiare. Eh sì, sono riuscito a fare tanto, probabilmente più di quanto, non lo so. Vabbè, andiamo al dunque. Senza la mia o me mi lamento. In quei tempi era diverso, non era un'altra persona. Che ti posso fare? Poi dopo, a un certo punto, è successo, vabbè, è così. Ma poteva succedere un'altra cosa, poteva succedere di tutto, poteva succedere, che ne so. Poteva succedere di tutto. Quindi, quando uno si aspetta le cose, bisogna essere pronti a quello che uno non si aspetta. Me ne poteva pure adesso, a pensare che se mi succedeva cosa, un po' succedere, che lo devi fare. Non dirvi la paranoia, la paranoia, cazzo. È difficile un paranoio. Certo, sono grasso, sono sovrappeso, peso c'è quasi 150 kg. Penso sempre, ma voglio dimagrire, quante volte l'avrò pensato, in questi ultimi vent'anni, sicuramente almeno, almeno, negli ultimi vent'anni, almeno una centinaia di volte, ho provato a fare, di centinaia di volte, sì. No, di più, di più, forse, di più, di più, anche 300-400 volte. Perdere peso, perché così sarò più felice, più ci penso. Che vuol dire? Uno pensa, voglio una cosa, un desiderio. I desideri, ma vaffanculo. I desideri, certo c'è, i desideri. Ma poi, bisogna fare qualcosa, bisogna far sì che il corpo segue il desiderio, che poi si attua, se fosse possibile. Facela dirsi. E così. E così. Beh, non è che mi lamento. Sì, mi lamento, perché, che devo fare? La mia condizione è che io, certe volte, non posso arrabbiarmi con me stesso, sempre, perché non sono perfetto, perché non mi comporto come vorrei comportarmi, perché non controllo la mia mente, come vorrei controllarla o qualcuno. Sì, mi lamento, perché, che devo fare? Sì, mi lamento, perché, che devo fare?